Poi prova la conclusione intercettata da Vanden Heinden, palla che si impenna, prova a saltare Marcucci, ancora Marcucci a lottare con Pompetti, si gira bene però è la regista dell'Inter, poi è Pezzella che va a commettere fallo. Ross subito Colpani su di lui, poco spazio, allora si torna in mezzo da Pompetti, balla la finta per saltare l'uomo, si prende il fallo di Cambiaghi, è riuscito alcune vittorie davvero larghissime. Pompetti, zappa. Cercato Merola, la palla passa, Merola limita l'aria, cerca la sponda, arriva alla chiusura, poi Pompetti recupera il pallone, lo controlla, guarda la porta, va morbido a cercare un taglio di colina. Ha gestito bene il pallone prendendosi forse una dozzina di falli, fa altrettanto bene Pompetti rischiando ma trova anche il lancio sulla fascia destra per Esposito, uno contro uno con Manzi, Esposito lo punta. Roric, Pompetti, bravo, elegante, nello stretto. Sotto sull'out di destra con Petrungaro che lavorerà comunque sull'out di sinistra, Petrungaro è un giocatore che dispone davvero di una notevole progressione, una notevole capacità di ribaltare. Passi 2001, Marigosu, eccolo che va ancora a lottare, ma è bravo Pompetti, che se la cava. Poi perso solo in finale, Pompetti, prova ancora a verticalizzare verso, quando siamo ormai al decimo della ripresa, Pompetti, ora la giocata, secondo un'ottima partita. Grazie!